Polizia Lecce, operatore 41. 831 sono stati quelli relativi al soccorso pubblico, numero questo in diminuzione rispetto ai 1132 dal 2022, mentre crescono altre tipologie di interventi da 1307 a 2560, tra questi incidenti stradali, viabilità, segnalazioni di persone sospette o liti in strada e richieste di contatti con altri enti o istituzioni. Un dato che preoccupa e sul quale la polizia sta cercando di intervenire anche con campagne di sensibilizzazione è quello relativo all'aumento di interventi per liti e maltrattamenti in famiglia, con vittime in particolare le donne, mentre i soggetti maltrattanti sono sempre più giovani. L'esperienza della nostra provincia, ma devo dire che rispecchia un po' il dato nazionale, vede purtroppo in aumento i casi di autori di questi reati, appunto parliamo di violenza domestica, violenza di genere, minori di età. Molto spesso perché hanno problematiche psichiatriche, comunque vivono un disagio. Inoltre trattiamo anche molti autori di reati di questa tipologia che sono nella fascia di età che è compresa tra i 20 e i 30 anni, soggetti che magari abusano di sostanze stupefacenti oppure di bevande alcoliche, soggetti che insomma sono particolarmente violenti e irascibili. Denunciare evidenza il vicequestore Elena Raggio è fondamentale. Quello che è prioritario ed è importante è che la vittima si faccia avanti, che assuma consapevolezza della sua situazione di debolezza. Noi invitiamo sempre le vittime a indicare, a denunciare e a chiamare il 113 ad ogni piccola avvisaglia di comportamenti aggressivi, violenti e maltrattanti. Anche in forma anonima si possono segnalare situazioni di disagio legato a violenze domestiche oppure spaccio di sostanze stupefacenti, bullismo, cyberbullismo.